Buon anno a tutti! Mi trovo ad Assisi, nella casa paterna di San Francesco, in questo momento e desidero fare gli auguri di buon anno a tutti voi. Innanzitutto ai miei alunni che mi hanno chiesto esplicitamente di fare proprio tutto un video sulla vita e sui luoghi di San Francesco, però purtroppo c'è tanta gente e quindi è un po' in base a Assisi in questi giorni, quindi è un po' impossibile andare a svincolare per realizzare un video, però ne approfitto per fare gli auguri a tutti voi, ai miei parenti, ai miei familiari e anche a chi mi segue e desidero anche darvi un po' gli appuntamenti di questo 2019 in modo da poter diffondere queste proposte e anche se volete anche partecipare in questo modo così potete aiutarmi con la mia ricerca sulla teologia, la liturgia, la danza e la corporeità. Allora, dal mese di febbraio inizierà un corso a Campo San Piero in provincia di Padova in cui appunto svolgerò questo corso sulla spiritualità e la danza. Poi ci sarà anche la possibilità di partecipare, perché no, a un corso di liturgia che farò al Sant'Antonio Dottore sul tema del Triduo Pasquale e sulle celebrazioni relative alla Pasqua. Poi, altro appuntamento indimenticabile con le missionarie dell'Immacolata 9-10 marzo e poi 9-11 agosto, quindi anche dei giorni estivi, per poter approfondire questo modo di pregare attraverso il corpo, attraverso la danza. Poi la novità di quest'anno è quella di una proposta di un pellegrinaggio sulle orme delle donne che hanno seguito Gesù, quindi andremo a venerare le reliquie di Santa Maria Matalena proprio nel giorno della sua festa, quindi celebrare la sua festa in Provenza e poi anche altre donne che hanno segnato la terra di Provenza con questo culto particolare delle donne che seguivano Gesù. Vi aspetto e vi faccio i miei migliori auguri per un buon 2019. Altri appuntamenti che ci saranno potrebbero essere segnalati nel mio profilo Facebook. Buon anno a tutti!